Ciao, sono Jenny, lavoro come front office nella sede di Verona da quasi quattro anni. Noi siamo il primo contatto che il cliente ha con Betrocar, quindi ci interfacciamo direttamente chiedendo inizialmente qual è la problematica, se viene la presenza della copertura cristalli o meno, in modo da poter capire se effettuare un preventivo oppure un intervento in convenzione di polizza. Nello step successivo verifichiamo l'entità del danno, in modo da verificare e poi anche interagire con il cliente riferendo quali sono le tempistiche di qualsiasi tipo di lavorazione ed è qui che in caso di sostituzione ci interfacciamo poi con il nostro fornitore verificandone anche la disponibilità del ricambio. Ogni caso ha una procedura specifica, ogni cliente ha una richiesta e un'urgenza differente, è proprio questa dinamicità che è la parte più motivante di questo lavoro. Tra i valori fondamentali di un'azienda credo che la crescita sia quello che più mi rappresenta e identifica, perché credo che sia uno degli elementi essenziali per il successo professionale e anche personale. Vetrocar è un'azienda in continuo sviluppo e affermata nel settore, sempre e comunque alla ricerca di nuove opportunità. L'ambiente è molto giovanile e dinamico, di certo non mancano le opportunità per mettersi in gioco e per imparare. Ciao ciao!